Ma che cazzo? Ciao, allora, come vuoi? Allora Valle deve organizzare una festa in montagna con i tuoi compagni e vorrei che tu mi accompagnassi No, allora non si può fare Quindi scusa? Vaffanculo Ma tu scusami Cosa ci fai ancora qui? Bene, te lo portiamo? Scusi, mi sono aiutato Scusi, l'avvento, ragazze, cazzo Stiamo facendo un video e il cameraman Poi lo alto Fica, fica